Cari amici buongiorno, stiamo per festeggiare l'Epifania con gli Allegri Imbroglioni che corrispondono al nome di Stan Loreley Oliverardi, più noti come Stanley Olio. Mentre questa sera alle 20.40 trasmetteremo il film d'avventura più forte ragazzi con Bud Spencer e Terence Hill. Ma ora vi lascio con gli Allegri Imbroglioni. A più tardi. A più tardi. A più tardi. A più tardi. La benzina è finita. Non preoccuparti, ancora una tessera nuova, guarda. Tessera nuova. Cosa me ne feci in questo desoto? Stupido. Non capisco perché ti arrabbi. Bevici su. Bevici su. Bevici su quando mi hai rubato la ragazza. Bevici su quando mi hai impegnato l'orologio d'oro. Ora suppongo dovrei bevoci su per avermi fatto prendere questa strada invece della principale. Se non vuoi bevoci su, non bevoci. Ma se vuoi bevoci, bevici. E mettene, scendi. Sì, ma per me è meglio bevici su. Come relitti alla deriva. Ma colpa tua ci troviamo in questo pesticcio. E non dio da bevici su. E' solo un mireggio. Speriamo. Non ne posso più di questa che è Nicola. Figlio un sozzo d'acqua. E' una buona idea, vada subito e torno. Ehi, Olio. Sì? Di qui vedo il retro di un camion. Ma non è un camion, sono io. Il retro di un camion. Bevici su. Olio. Olio. Che lo sai? Ho visto un posteggio. Dove? Qui dentro. Guarda, è proprio qui, lo vedi? E lì è... Stupido. Stelio, siamo a Selvi. Come faremo ad arrivare fino lì? Siamo senza... E' semplice. Uno di due spinge e l'altro va al volente. Non ci avevo pensato. Ehi. Cosa? Non correre. Non temere. E stai attento, non superare i limiti di velocità. E venti potenti. Ehi, Olio. Cosa? Ti dispiace se mi fanno un minuto? Fai pure. Ecco fatto, sono pronto. Ed ora è venti. Che cosa avresti fatto tu se non avessi pensato a forza spingiore? Non ne ho la minima idea. Forse avrei finito per andare a piedi fino a quel posteggio e... Ma chi spinge adesso? Oh, non ci pensavo più. Ho chiesto a un mulo di aiutarci e lui ha accettato il subito. Beh, infendo un mulo insomma a quello stesso. Oh, certo. Hai proprio ragione. Come sarebbe a dire, Samaro? Vai a chiamare l'additto. Bevici il suo olio? Che altro c'è ora? Chiuso per la guerra. E adesso cosa faremo? Ehi, arriva una macchina. Proviamo a fermarla. Forse ci darai un po' di benzina. Guarda, c'è un camion che sta arrivando. Eh, non illudoti. Fai né finta di non vederci. Ehi, perché non ti sdrai e fingi di essere svenuto? Così dovrà fermarsi. Nessuno abbandona un melato per la strada. E nel mente adoperi il suo bello. Su, presto, svieni. Ti sta vicendo. Sì, vieni. Vieni. Signore, ci prestate un po' di benzina? Benzina? Ah, quel macinino è rimasto a secco. Vedete, abbiamo eretto il calcolo nel preventivo della nostra scota. Lui vuol dire che siamo a terra, vero? Bene, amici, io sono l'uomo che fa per voi. Mi chiamo Chester Wright, inventore della pillola gassogena per la benzina sintetica. Queste per 30 litri, queste per 10 litri. E questa, amici, è una latta di acqua pura. Assaggiatela, vi prego. Scusate. E ecco è pura. E ora coi vostri occhi, amici, vedrete l'ottava meraviglia del mondo. Metterò alcune di queste pillole nell'acqua che voi avete assaggiato. Aprite il serbatoio. Scusate. E benzina. Su, versatela nel serbatoio. E ora avviate il motore. Voi ci avete salvato da una morte precoce. Sì, siamo molto precoci. Questa dobbiamo? Oh, proprio nulla, amici, il mio è solo un atto di solidarietà. Oh, grazie, grazie infinite. Tutta un'orchestra in due persone. Siamo la nona meraviglia del mondo. E la sola orchetta di due persone che esiste al mondo. E che fa strabiliere. Bene, perché non ci associamo? Ero diretto a Washington per consegnare queste al governo, ma potremmo far scudi strada facendo. Come, signor Wright? Beh, domani è giorno di fiera, Midwell, e si trova solo in poche miglia da qui. La vostra orchestra attirerà gente, così potremmo rifilare... e cioè vendere a tutti quei gonzi. Cioè ai paesani le pillole. Che ve ne pare, amici? Facciamo a mezzo. I soldi fanno sempre comodo. D'accordo, allora ci vediamo a Midwell. Addio. Addio. Ciao. Addio. Addio, addio. Addio. Bene, sembra che i nostri guai siano finiti. Siamo ricchi. E questa tessera non ci salva più a niente, vero? Non finché ci sarà una gocciola d'acqua. Speriamo che fiova molto. Più presto ci muoviamo e più presto non... Avanti, avanti, avanti signori, venite. L'attrazione del nostro secolo. Coraggio, venite tutti a vedere la principessa patria... Nessuna esplicazione scientifica del fenomeno che io presento. La vera donna baffuta e barbuta. La vera donna baffuta e barbata. Vedove, signori, gettatevi nel vottice delle denze. La vera donna baffuta. Grazie a tutti. Mica male, eh? No, una trombetta che potrebbe davvero fare concorrenza a quella di Henry James. Appassionata di musica? Abbastanza, ho anche una voce discreta. Bene, che cosa stiamo aspettando? È quello che dico. Allora, avanti. Allora, avanti. E' presto il vostro gusto bova musica. Mentre cosa? Ora dovete apprezzare. Niente di mi vuole. Vi abbiamo portato la più grande invenzione di questo secolo. Qual è il problema che vi appilla in questi giorni? I trasporti. Ma trasporti significa benzina a torrenti, a fiumi. In questo periodo di crisi è caduto il miracolo. La pillola gastrogena. Basta sciogliere una pillola in un bidone d'acqua per avere un bidone di benzina. E non benzina scadente, ma benzina di prima qualità. Questa trova fa dieci litri. E quest'altra fa trenta litri. Io potrei chiedervi un dollardo per litro, invece no. Mi do trenta litri fa due dollardi. E dieci litri per un solo dollardo. Chi ne vuole? Uno da trenta a me. A me uno da trenta. Non c'è me uno. E voi, signori? Un momento, un momento. E chi ci assicura che funzioni? Se non sbaglio, avete sulle spalle una braccia. È piena d'acqua? Sì, è piena. Buttateci questa, vi convincerete. L'odore è di benzina. Non è nulla, amici. Uno da trenta. Ecco, uno da trenta. Un momento, fermi, fermi tutti. Questi due laggioroni vi stanno rubando i soldi di tasca. È tutto un imbroglio. Non venite insinuare che stiamo perdendo il pubblico. Ho messo una di queste pillole in un bidone d'acqua e l'ho versato nel serbatoio della mia auto. E ora, ora guardatemi. Scusate, signori, scusate. Sono i talenta McNeil della polizia stradale. Sono cinque giorni che li sto inseguendo. La forca a bocca per questi ladri. Consigliateli a noi. Li facciamo pezzi. Amici, calma. La legge è la legge. Il tribunale giudicherà. La mia borsa, la mia borsa. Quel che non capisco è po' che vi siete speciati a po' da un poliziotto. A meno che le pillole non siano davvero un imbroglio. E con che cosa credete che cammini il vostro macinino? È già po', camminare, cammina. Allora, quello, no, che è scoppiato? Boh, forse si sarà sbagliato nel mischiare. Ho ammesso prima la pillola e poi l'acqua. Quanto abbiamo fatto? 223 dollari. Datemi la mia parte. Subito. Ecco qua. Oh, pertinci un momento. Che succede? Non vi torna nei conti? Non è questo, dobbiamo ritornare. Torna ora, e perché? La borsa appartiene a una ragazza di Midwell, mi è rimasta in tasca. Sì, ma se noi torniamo indietro ci ficheremo nel carcere e scopriranno che non siete un poliziotto. Come faccio a restituirgliela? Ci penso io. Oh, da dove sbucate? Sono salita sul rimorchio quando avete tagliato la corda. Il problema, però, è come farò adesso a tornarmene indietro? Oh, si spermo tutto io. Quei due, filate dritti fino a dove ho lasciato la mia automobile. Noi saliamo nel rimorchio. E ora, mia cara, venite e vi spiegherò tutto in due parole. Ora capisco un po' che voleva ritornare. Pochi? Beh, doc, quella ragazza vive lì e lascia a tornare il perché. Amici, se avete ricevuto una busta da selezione potetevi... 80 all'ora? Non andiamo 80 all'ora. Non andiamo neanche 50 all'ora. Infatti non facciamo neanche 25 all'ora. Ma è quello, signor, 80. E non te codi, chiedotto? Oh, davvero? Ma dove ci sono? Ma perché non guardi dove vai? Eh, ma Giulia. Grazie. Ma che cos'è? È un'istantanea. Mia madre mentre sta concludendo un affare di terreni. Oh, siete ricchi, eh? Ho una zia a Boston che lo è e ha fatto una donazione a mia madre. E di che affare si tratta? Mamma ha messo il terreno a più 10.000 dollari e quei signori ne hanno investiti 15.000. Uno di quei due credo di averlo visto in qualche posto. Se non sbaglio era alle corse, a Louisville, e lo chiamavano un occhio di lince. Non potreste parlare più chiaro? Mia cara, ho paura che la vecchia mammina sia stata messa nel sacco. Quella è la mia auto, salite, io avverto quei due e torno. Amici, torno indietro con Susie a Midvale. Tornate a Midvale. Non credete che sia pericaloso? Forse sì, ma devo rischiare. Sua madre è stata truffata per ben 10.000 dollari. È un colpo mencino. Sì, mencino e sinistro. Già, ma non finirà così. Ho già dei sospetti e quei due tipi sputeranno tutto fuori. Vi state comportando come un paladino antico. E se vi servisse l'inforzo? Noi siamo pronti. Molte grazie, sapevo che mi avreste aiutato. Rimanete sulla strada, vi raggiungo fra poco. Va bene. Aiutimi. Tellio, che ne pensi delle nuove a prima vista? Che fa rispermiare tempo. Avvocato, questo mio amico è convinto che mia madre sia stata imbrogliata. E il signor... Ah, già, non so ancora il vostro nome. Un dettaglio senza importanza. Mi chiamo Wright, Chester Wright. Molto lieto di conoscervi, ma credo che state prendendo un granchio. Ho i soldi in cassaforte. Sì? 20 contro 1 che non ci sono. Il mio fiuto non sbaglia mai. Questa volta io spero di sì. Ecco, ecco, la busta è intatta con le firme. L'ho sempre custodita in cassaforte, signora Knight. Oh, sì, certo. Vogliamo darci un'occhiata? Visto che la signorina Susi un giorno erediterà, potrebbe aprirla lei stessa. Non capisco. Ho messo il danaro nella busta con le mie mani e mi assicuro che non l'ha mai persa di vista un estante. Ma come ha fatto a sostituire il danaro con tutta questa cartacea? Non la fece cadere per terra? Sì, ora che ci penso, sì. Ma la firmò prima di farla cadere e quella che raccolse mi sembrò la stessa. Ma si capisce, non è che è un trucco infantile. La busta falsa venne preparata e firmata in precedente. Telefonerò al capo della polizia. Vorrei averli tra le mie mani. Speriamo che la polizia riesca da ciuffarli. Sì, ma voi chi vi ripaga? Anche se la polizia li arresta, spenderanno i vostri soldi per la loro difesa. Perciò? Comunque vada. Io ci remetto. A meno che non vogliate ricorrere all'iniziativa privata? Sarebbe a dire. Beh, per spuntarla su certa gente bisogna usare le loro stesse armi. Ricordate che ho riconosciuto uno di quei due, quel giocatore? Tra un paio di giorni c'è il gran piema a New Orleans. Lo pescherò certamente. Bene, lo pescheremo insieme. Se non ci mancava la benzina nel deserto, Chester non sarebbe andato a Midvale. E non l'avrebbe mai conosciuta. Mentre ora va in cioca del suo denaro, ai suoi occhi Chester è un vero, un vero eroino. Si innamoreranno. Si spioseranno. E vivranno in un nido ciò con dette da rossi. Una casetta in campagna? Potremmo lavorare per loro e vivere felici e contenti. Descrivi un bel quadrino, Stelio. Il primo figlio si chiamerebbe Stelio. Ok, non olio. Stelio è un bel nome. Olio, detto. Forse avranno gemelli. Glielo suggeriremo. Quanto ho fatto ora? Dieci. Hai la mano infelice stasera, eh? Sono il colonnello Pantaleo Bixby di Lipica Frog dello Stato del Texas. Oh, benvenuto colonnello. Vi abbiamo riservato l'appartamento migliore. Spero che vi piaccia. Molto gentile. Ecco, Tieny, basta così. Se continuo a giocare con te ci lascio le scarpe. Il mio segretario, signor Chester Roy. E questo è il mio maggior domo, vallito, effettato ma generale. Ports. Portami di sopra questi begali e non sarai più povero. Sì, signore. Ho con me delle somme rilevanti e vorrei depositarle. Questa busta contiene 20.000 dollari in contanti. E qui ci sono contratti e documenti importantissimi. Ci penso io a metterle a sicuro. Ah, un momento vi do la ricevuta. Cielo che vedano le mie pupille. Salve vostro, signorina. Scusate, signorina. Il vostro viso non mi è nuovo. Io vi conosco. Il colonnello è un rubacuori. E pensare che ha la moglie più gelosa di tutto il Texas. Quella è Corcoran. Vicino al banco è uno dei due. Sì, mi ricordo la fotografia. Salutatevi e andiamo. Susi, raggiungeteci di sopra. I miei omeggi. Ah, siete venuti per le corse, signori? Purtroppo no. Prima li affodi e poi il godere. Dopo di voi, signore. Grazie. Beh, potreste almeno bustare. Shh. Ora posso dirti che ho scoperto una miniera d'oro. Quattrini salanti davvero? Un vecchio scemo pieno fino al gozzo. Falca Sanova e si chiama colonnello Pantaleo Bixby. Piglialo nella rete. Come ho preso te? Tori, si tratta di affari. Ah, ascolta. Siamo qui solo da cinque minuti e già ci siamo messi in contatto col nostro uomo. Qualcosa succederà. Ma non vi sembra che però dai soldi escano solo di tesche nostre? Sì, però quello ne scucirà diecimila. Se li schiuce, chi li richiuce? Shh. Alla stanza in fondo al corridoio, attiralo qui e fallo ubriacare ben bene. Più che poi. Poi arrivo io al momento giusto, capito? E non scordare quel tuo accento fatale. Così scivolosa, caro. Bene, perfetto. Torno subito. Oh, mi prego. Non mi lasciate. Mi prego. Aiutatemi. Oh, mi prego. Oh, mio eroe. Sarei caduta in terra se non fosse stato per voi. Oh, se fosse stato qualcun altro non così forte, così galante. Sedete qui vicino a me. Pochi. Ma potrei anche morire, sapete? Vedo a prendovi i fiori. Oh, e poi bisogna brindare. Posso ordinare un paio di cocktail? Mi spiace, signora. Sono a ste mio. A ste mio? E cioè, voi non bevete? Ah, ah. Oh, vi dispiace se bevo io qualcosa, soltanto un pochettino. No, certo. Oh, e non vorreste versarmelo voi? Ora lo raddolcito con le mie labbra. Ah, ah. Un goccino piccino? Proprio solo un goccino. Ino, ino. Mi chiamate in fondo. Non sapevo che nel Texas eravate forti bevitori, colonnello. Colonnello? Non siete il colonnello Pantaleo Bixby? Sono il suo domestico. Che? Sì, mi chiamo Paz. Paz? Sì, B-O-A-Z-Paz. Avanti. Oddio, è mio marito. Vasco, marito. Non mi ha fatto. Non mi ha fatto. Non mi ha fatto. Listo. Colonnello Pantaleo Bixby del Texas, mia bella signora. Come vostra vicina prossima, sono venuta a presentarvi i miei omeggi, nonché tutti i miei sovici. Colonnello Pantaleo Bixby, sono onorata di conoscervi. Accomodatevi. Grazie, madame. Mi chiamo Mary Lou, colonnello. Che nome divino. Posso chiamarvi Mary? Con piacere. E voi chiamatemi Leo. Leo. Dove se chiamo l'incontro? Posso ordinare un paio di cocktail? Un paio? Oh, Mary, un paio li bevevo quando ero a Baglia. Una dozzina. E vedrete chi sia il colonnello Pantaleo Bixby. Mio piccolo fiore di loto. Una dozzina di cocktail all'807. Mary. Che liquore è questo qui sul tavolino? È solo cognac, colonnello. O arrivano i cocktail? Tento per cominciare. Prometete? Ho il più bel fiore di tutti i giardini e di tutte le sore. E sedete, colonnello. Grazie. Avete la fama di un robacuori, sapete? Leo. Spero che ve ne sincererete da voi. O mettete che fumi. Ma certo. Grazie. Sigala e te? Oh, no, no, grazie. Fuoco? Grazie. Tutto bene, filo? Poglio è già andato nella tana del leone. E io ho scoperto il terzo componente della banda dirige un dancing su una tante sul fiume. Oh, magnifico. Questo è il sistema tutto. Che volete dire? Beh, non vorrei vi trovate senza un soldo in tasca. Se noi ci si ficassano i guai. Siamo nella stessa barca. Ma non vi rendete conto? È un dancing e lì potrete cantare. Fatevi ingaggiare e preparateci la strada quando arriveremo noi. Cercate di allontanarmi prima che recuperi il denaro? Oh, ancora non vi fidate di me? Beh. Perché se è così sarà... Meglio rinunciare a tutto. Non fare lo sciocco. Ho fiducia in te, Chester. Ti sono veramente grata. Farò come vuoi. Sedite, Nodilu. Delizioso. Un ettari. Un ettari. Nodilu. Questo cartel mi intenerisce il cuore. Trattenete l'espiro e bevete un po' d'acqua. Grazie, colonnella. Leo. Che mani delicate. Grazie, Nodilu. Che creatura impulsi va, amore mio. Vi dispiace se facciamo un po' di musica? Il piaciode, se le vostre. Grazie. 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 che il mio è colendello. Donis! Ah, ti ho scoperto, tu, mia moglie, nelle braccia di un altro uomo. Oh, mio bello, lascia che ti spieghi tutto. A spiegarmi che cosa? Ma signore, voi non capite? Non capisco tutto, invece. Vorrei uccidervi entrambi e forse lo farò. Oh, non è solo impulsivo. Ah, solo un impulsivo, vero? Quando ti trovo abbandonata fra le braccia di questo caso, no, ma io tu... E ora, colonnello Pantaleo Bixby, faremo i conti, vi trascinerò in tribunale nella causa di divorzio contro mia moglie. No, no, pensate alla mia posizione. E che volete che mi importi? Non si potrebbe metterci d'accordo? Osate offrirmi del denaro. Beh, siamo soli e siamo gentiluomini. Del denaro in cambio di mia moglie, del mio onore. Per i miei bambini, i vostri piccoli innocenti bambini. Ma, dopo tutto, perché le colpe del padre dovrebbero ricadere sui figli? Quanto? Dieci mila dollari. Dieci mila dollari. Vi dare ho dieci anni di prigione, mio caro richettatore. Chi siete voi? Sono lo sceriffo Pantaleo Bixby e vi arresto per aver derubato la signora Coward di dieci mila dollari. Non sarà facile. Eh no? Agente! Sì, sceriffo. Avete il mandato da destra? Tutto l'ordine firmato e bollato. Sì, mettetevi le manette. Un momento, signori, ma non si potrebbe... State cioccando forse di corromperci. Ma come potrei pensarlo? Ma vedete, signori, si tratta soltanto di un affare andato a male. Restituirò il denaro per risparmiare altre noie spesse. Consegnerò la cifra nelle vostre mani perché la rimediate alla signora Cowan. In fondo quel che conta è riavere il denaro. Consegnate. Ecco, cinquemila dollari. Era la mia parte. Che ne è successo degli altri cinquemila? Le ha presi il mio socio Bennett. Ma Bennett ci ha detto che voi avete tutta la somma. Così è lui che ha fatto la spia. Il vostro socio Bennett. Bennett. Mani in alto! Voi due pezzi di imbroglioni speravate di farmela. Dovrei bucarvi la pelle. Qui i soldi a svelti, mani gordi. State qua. Stavamo solo scherzando. Prendi le manette. Debimi le manette. Sì. Fini. Su, mi chiamano nel guarderota. Oh, por l'estre, non si è sta ove. Presto, presto dobbiamo tagliare la corda adesso. Sale il valore della lira in Seat. Prezzi bloccati a luglio 92. Seat presenta... Un poliziotto di Chicago non abbandona mai la sua arma. I've heard different opinions of the will of the wisp they call love. Read biology and astrology and every solemn love-lorn column. There's only one way to beat it. Go out and meet it. I gotta see for myself that love is really so grand. My information is all second hand. No one's telling me I gotta see for myself. I gotta get me a glow, that certain look in my eye. I gotta sample an apple to fly. I gotta sample an apple to fly. In proximity, I gotta see for myself. Can't believe I was so naive, never minding what I miss. Right now I have to qualify. I wanna be she who gets kissed. I gotta see for myself. I gotta get in the clothes. You needn't tell me I'm heading for walls. Are you kidding me? I gotta see for myself. You needn't tell me I'm heading for walls. Are you kidding me? Yeah. I'm not from Maine. I'm not from Spain. I'm from Missouri. I gotta see for myself. Beh, che ne dici, Tony? La rivista non fa per me. Preferisco lasciar stare. Lo faremo a mezzo se mi dai 5.000 dollari per iniziare. 5.000 sono tanti. Ed io non li trovo mica per la strada i soldi, caro. Non vi darà il denaro, signor Bennett? Niente da fare. Avevo un progetto, volevo fare di voi una stella. Ma senza soldi il talento non vale nulla. Se fosse sicuro della riuscita, Tony qui inviderebbe il denaro. Tony non si è mai fatto sfuggire una buona occasione. Se potesse aiutarvi. Grazie comunque. Per caso non avreste possibilità in famiglia voi. Ho una zia a Boston che ne ha parecchie, ma vedete? Sta a Boston. Già, non potrà esserci d'aiuto, contavo di cominciare tra due giorni. Beh, lasciamo andare, non pensiamoci più. Io penso. Beh, abbiamo rilanciato anche troppo. Giù le carte, vedo i due dollari. Cosa avete? Due paia. Beh, sei uno stupido, e quattro essi. Un momento, amici. Scala reale. Beh, che notizie, Susy? Venet ha cercato di ottenere stamani dei soldi da Tony Quinn per lo spettacolo. Ma niente da fare. Non ha abboccato, eh? No. Tony aprirebbe la borsa soltanto per un affare più che sicuro. Si vede che questo non lo convince troppo. Venet allora si è rivolto a me. E cosa gli hai risposto? Che l'unica persona ricca della mia famiglia è una vecchia zia di Boston. Hai detto una vecchia zia di Boston? Ma sì. Tesoro, la tua vecchia zia è arrivata da Boston stamani. Che fortuna. È venuta qui a trovare la sua nipotina e il suo fidanzato, colonnello Pantaleo Bixby. Ma dove sta? Andiamo all'incontro, se stendiamo tutto. Sta già qui. Dove? Io non la vedo. Io non. Sono maschio io. Coltetti. Come ti sembra? Assolutamente profetto. Andiamo da cesta. Restate un momentino. Che c'è? Vado a camminare. Va bene? Non che sì. Che sì. È semplice. Ello di nuovo. E adesso vediamo a te. Zia. Siete un portento. Ed ora in poi il vostro nome sarà Gigi Cartwright. Gigi Cartwright. Vediamo ragazzi, è tardi, sbrighiamoci. Andiamo, Gigi. Non tu. Sono io che debba... E cammina. Gigi Cartwright. It's a scene I'll never forget. The moon kissed the Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? The stars danced a little polka last night. Yes, it's true. And did you see them too? Songbirds were singing the concerto in the flat. may sound fantastic, but you can't quote me. I can vouch for that. The moon kissed the Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? And did you see the moment you kissed me? The moon kissed the Mississippi last night. The moon kissed the Mississippi last night. The moon kissed the Mississippi last night. Yes, it's true. Yes, it's true. And did you see them too? The moon kissed the Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? Did you see the moment you kissed me? The moon kissed the Mississippi last night. The moon kissed the Mississippi last night. You see, my dear friend. You see how much? You have to protect my money, the one of my future friends. I've understood. I've understood perfectly. I've understood about 100 dollars? Oh! Well, the colonel has changed the idea. I'm convinced that my proposal is good and honest. You've got to do it for the details. Un momento, sto pensando che Gigi non potrà avere un controllo sulla rivista, col solo 49%. Grazie Lee, io non ci avevo pensato. Oh, è solo un dettaglio. Temo che il colonnello non abbia compreso quello che gli ho detto prima. Ho messo, amore. E questo colonnello è tutto quello che posseggo, 3 dollari e 10 centesimi, non altro. La cosa che mi aspetta allora, non avevo proprio capito prima. Uno, due, tre. Fumete? Sì. Compratevi un pacchetto di sicurette. Allora signorina, 50%, ma il colonnello è un osso duro. Ho bisogno che non ce l'ho per apprezzarlo. L'ho già apprezzato abbastanza. Sei lì, a volte penso che mi sposi per il mio denaro. E adesso concludiamo. Depositiamo 5.000 dollari per ciascuno. Mettiamo l'intera somma in una busta. E voi la custodirete fino a quando tutte le carte non siano in regola. Bene così. Promettete che ci pensi? Voi che ne dite, Chester? Beh, dato che il denaro resta in vostre mani non ho nulla da obbiettare. Bene allora, d'accordo. Magnifico. Noi Cartwright non ci pensiamo due volte. Venite al mio albergo domattina. Con il denaro e le carte necessarie. Contateci. Addio signor. Arrivederci signorina. Addio. Vieni cavo. Sì. Quella tua rivista? Ci rinuncerò. Mi dà troppi grattacami. Ed io che cosa ci guadagno? Beh, tu non rischi nulla. Ti darò 1.000 dollari di premio se me ne presti 5.000 per 10 minuti. 2.000 e 5.000. Va bene. Sei sicuro che quella vecchia strega ci cadrà? Naturalmente, come credi che abbia avuto il denaro che ho investito nella rivista. Non hai bisogno di dirmelo. Sai, Olio, stavo proprio pensando. E che cosa? A nulla, però pensavo. Dunque, ragazzi, avete capito come funziona il trucco? Ho ciotto. Dobbiamo cambiare la busta prima che la cambino loro. Voi non dovete preoccuparvi di nulla, vero Olio? Appena avete effettuato il cambio, passatemi la busta con il denaro, dicendomi di andare a metterla in cassaforte, così filerò. E a noi che succederà? Cercherete una scusa per lasciarli e mi raggiungerete alla stazione, vi aspetterò lì con i biglietti. E Susi che farà? Beh, sarà già lì ad attendere. Io vado a pagare il conto dell'albergo e a preparare i bagagli. Voi tenetevi pronti, non tarderanno. Va bene. E ricordate, siate prudenti, è una delle bande più pericolose di tutta l'America. Saremo più belli di noi di loro. Un solo passo falso e ci ritroveremo tutti in fondo al Mississippi. In un blocco di cemento. Blocco di cemento. Sei proprio sicuro di aver capito il sistema della busta? Certo, non sono mica scemo. Vediamo. Dunque, io ho due buste. Questa contiene dei ritagli di giornale, giusto? E quest'altra contiene 10.000 dollari. Ora, Bennett mi dà i 10.000 dollari. Allora, io li ridò a lui, vedi? Oh, non sapevo, non sapevo, dai a me. Attento. Questa busta contiene pezzettini di cota. Mettili in tesca. Io faccio Bennett e tu sei Stelio. Ora, questa busta contiene 10.000 dollari. Mettili in tesca. Come puoi dormi questa busta quando io te la richiedo se l'hai messa nell'altra tesca? Ma se non mi hai chiesto l'altra busta. Oh, ridammi quelle buste. Ora, tu sei me e io sono te. Come puoi essere me se sei Bennett? Hai detto, oh, Roma. Tu sei Bennett e io sono Stelio. E dove ho io? E' andata a fuoco a altre pezzi in qualche posto. Non capisco, proprio... Siediti, siediti. Mi sento già in un blocco di cemento. In fondo al Mississippi. Sì, in fondo al Mississippi. Ma che c'entra il Mississippi? Dove è 410? Da quella parte, signore. Grazie. Sì, sono loro. Sei ciotto da vedere il veneno? Proprio qui. E non scordarti che sei una donna. Molto bene. Buongiorno, signori. Buongiorno, colonnello. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Bene, eccoci qua pronti a concludere il nostro affare. Questo è il signor Tony Quinn, il mio socio, il signor O'Grady e il signor Taylor, i nostri assistenti. Sono onorate. Oh, scusatemi. Questo è il colonnello Bixby, mia consulente e consolante. Buongiorno, signorina Gigi. Cinque biglietti da mille dollari. Oh, sì, sì, naturali. Gli altri cinque. Oh, grazie. Ed ora tutti dentro a una busta. Come era stabilito. Ecco a voi. La custodirete finché avremo definito i dettagli. Grazie. Buongiorno, signor Wright. Signor Bennett. Il mio segretario, il signor Wright. Il signor Quinn, piacere, piacere mio. Non credo ci sia altro, signorina. Buongiorno. Addio. Oh, a proposito, non credete che sia più prudente mettere un segno di riconoscimento su quella busta? Oh, no, non credo che sia necessario. Ma sapete, è una semplice formalità. Forse avete ragione, vero, Leo? Credo di sì. Ecco. Grazie. A voi, signorina. Grazie. Un affare solido come cemento armato. Forse, Leo, è meglio che la tieni giù. Beh, dovremmo brindare ora. Lo gradireste un cicchetto? Gigio vuol di ove una libaggione. Ho una bottiglia di sciodi nell'altro estenso. Se volete darmi la busta, signorina, la porterò giù e la chiuderò in cassaforte. È una buona idea, grazie. Buongiorno, signori. Buongiorno. Non vai a prenderlo, Sherry? Ma ci vedo di consa, mia cara Gigia. Con permesso, amici. Prego. Sapete, signori, gli amici mi chiamano Gigia Sorsetto. Come dite, signorina? Un sorsetto mi nebrio per tutta la notte. Dimentico, vivaci. Allora se ne è il caso. Gigia, non trovi la bottiglia. Dove l'hai messa? Scusatemi, io ritorno subito. Ma che tipo? Se no l'avessi visto non ci avrei creduto. Te l'avevo detto, no? Ehi, Jimmy, attento alla porta. Cos'è questa storia? Mi hai imbrogliato? Imbrogliato? Non vedi, ci sono cascato anch'io. Acchiappa quella donna. È fuggita. Non ci sono. Corriamo, presto. Avanti, bellezza. Dov'è il grunzo? Non ce l'ho, credetemi. Il tipo di segretario l'ha presa, vero? Sì, il signor Wright l'ha portato giù. Bellezza, sei dei loro. Ti avverto che c'è un morto in vista. Se sono stato giocato anch'io da questi idioti. Dov'è, Wright? Quello no, la porta vive Susi. Voi lo sapete po' che l'avete rubato il suo metri. Viglia! Non le mammo le più parole, lo parlando di Asia. Se non foste una donna, forse Rai è andato a cercare quella ragazza. Andiamo a notare. Che c'entro io? Ho perduto 5.000 dollari. E qualcuno dovrà ridarmeli. Io ero in buona fede, ti ho chiesto quei soldi per fare il solito trucco. Te li avrei restituiti su. Allora sei un cretino. Eccola qua, Tony. Ah, dunque questa sarebbe la ragazza che ti ha preparato la trappola, eh? Furba! Dov'è, Wright? Avanti, parla. Ma non so dove sia. Quando è che l'hai visto? L'altro giorno, quando era qui con voi. Loro lo sapranno. È sperito. Temo che ci ha messo tutti nel secco. E si è buttato via il crozzolo! Tu hai preparato il piano, dov'è adesso? Parla! Aspetta un minuto, bene. Allora Chester si è preso gioco di noi tutto il tempo. Non ha mai pensato di restituirmi il denaro. Temo proprio che si sia burlette di noi. Già. Voi e le due donne vi siete messi in buone mani. Siete caduti tutti nella rete come tanti pesciolini. Un minuto. Ho un'idea. Quella tua rivista, mettila subito in scena. Alla fine dello spettacolo compariranno i dadi e la roulette. Farò piazza pulita. Voi rimanete perché dovrete cantare, perché mi piacete. Ho una mezz'idea che diventeremo amici. Resta qui e sorveglia, lei è bene. Me? Sì, te. Sembri sincero, ma voglio prima esserne sicuro. Chi mi dici che tu non sei a mezzo con Wright? Ehi, un minutino. Tu prenditi questi due e buttali nella sala macchina. Finché non ho deciso cosa dovrò farne. Mi rivolgerò a un avvocato per i vostri modi indelicati e in urbani. Fuori! Ma io sento un gran freddo qui. Metti questo sulle spalle. Ehi, Mike. Sì? Va giù, ha idea, Gio, di attivare la caldaia. I clienti stanno morendo di freddo. Va bene. Ehi, Gio, metti altro carbone. La gente su si sta congelando. Va bene. Forza di braccia, amico. E lavora di pala. Io? Sì, tu, e niente storie. E poi che io e non... Hai proprio la faccia di uno che non rispetta le donne. Forza con la pala. Avanti. Ho! Oh! Oh! No! Grazie a tutti. 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 Ma l'aspettate un momento... Oh, non sedete, piccolina. Ho un mal di stomaco tremenda. Sarà un vero sollievo. È magnifico. Ma che razza di pillole sono? Ve l'abbiamo detto, pillole gassatili! Tiratemi giù! Tiratemi giù! Tu allegra, eh, sorella? Non è mia sorella, è mia madre. Vieni, bambine. Non c'è nessun motivo perché non si diventi amici. Buone amici. Ascoltami, se tu sarai gentile con me ti porterò molto in alto. Allora, brindiamo a noi due, al nostro futuro. Comincia ad essere ragionevole, vero? Allora, noi due. Buono, eh? Un dottore, un dottore! Tieni gli occhi aperti. Tieni gli occhi aperti. Tieni gli occhi aperta. La nave si muove È inassante, ha rotto gli ormeggi Ha rotto gli ormeggi? Fuori una lancia 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 Sentimi, letto, bidi! Forza, tutti di sotto! Tutti di sotto, avanti! Tesoro, venivo qui quando ho visto in latante rompere gli ormeggi, così sono saltato nella lancia della polizia. Ma cara, che ti prendi? Dove hai messo il denaro? L'ho spedito a tua madre questa mattina. Ecco qua l'ha ricevuta. Oh, Chester, perdonami. Chester! Vieni, Susi, andiamo. Oh, Chester, perdonami! Ecco, siamo di dove i cattivi ecqui Lupe, venici sopra